ciao a tutti bentornati ad un evento di collina italiana questa sera siamo con rossana che si collega direttamente dal canada per presentarci e parlarci del suo libro acqua che vedete qui dietro ha una piccola presentazione di collina sapete già siamo un centro di lingua offriamo lezioni per adulti e bambini e anche eventi speriamo sempre di più e tanti di più corsi speciali di cui parleremo anche dopo velocemente e l'evento di oggi invece come dicevo ha come protagonista il libro acqua scritto da rossana rossana è un insegnante di collina italiana vive in canada e ha tante passioni la musica la scrittura l'insegnamento la famiglia e i viaggi questa sera parliamo del libro che rossana il suo primo libro che acqua che è appunto scritto in italiano in inglese e anche la versione bilingue di cui probabilmente parleremo un po di più oggi e ha scritto anche altri libri però che di cui parleremo forse nelle prossime puntate uno è di absolute note e l'altro è songs of a secret lascio direttamente la parola rossana così possiamo iniziare a scoprire tutto di questo libro e di questo viaggio grazie grazie cristina allora cristina mia già presentata benissimo e questo è il mio libro sembra grande in realtà sono due libri perché sulla pagina di destra c'è il capitolo in italiano e sulla pagina a sinistra c'è la traduzione in inglese e ho scelto questo libro perché è un libro un po più semplice degli altri due è che ho scritto più più tardi ma anche perché è il libro che mi rappresenta di più quindi io sono in questo libro a 360 gradi c'è tutto di me o tanto di me in questo libro e una delle esperienze che ho condiviso di più è stata la mia esperienza in malesia ho vissuto in in malesia per quattro anni a ipo che è una città nord ovest della malesia nord di della capitale qualla lumpur e in questa esperienza ho imparato e ho studiato un po la filosofia orientale che mi piace e mi interessa molto in questo libro c'è una differenza tra l'oriente e occidente della filosofia orientale e occidentale vista e sentita attraverso una relazione tra una ragazza italiana e un ragazzo malese quindi ho usato questa relazione per parlare della filosofia e della cultura diversa tra oriente e occidente che mi interessa molto ovviamente e ho scelto come titolo acqua perché per me acqua rappresenta la vita e lo scorrere dell'acqua è lo scorrere del tempo e della vita e è per me molto importante sotto tanti tante forme anche sia a livello religioso che lo è in tutte le culture sia orientali che occidentali c'è sempre l'immagine dell'acqua e anche perché è un po la base della vita diciamo e un'altra cosa che per me è molto molto importante è l'amicizia infatti in questa storia si parla di una vera amicizia perché ci sono amicizie di un po superficiali o comunque amicizie che hanno un tempo limite e amicizie che sono senza tempo quando si trova una persona con cui si sente di avere tante cose in comune si crea una relazione molto forte e importante che che io sono stata molto fortunata ad avere e quindi grazie a questa amicizia ho voluto ho voluto onorare questa amicizia con questo libro perché è una esperienza personale che ho vissuto quando quando da quando ero una ragazzina giovane di 14 anni e questa relazione con questa amica mi ha veramente cambiata e mi ha fatto capire l'importanza del tempo e dell'amicizia quindi io sono convinta che giusto dedicare tempo alle persone che si amano e perché il tempo è prezioso per tutti e non c'è sempre tempo quindi eh quando si ha tempo bisogna eh passarlo con chi si ama e questo è un po il il fulcro del libro ma anche eh l'importanza della vita in generale quindi delle malattie ehm di come vivere eh una situazione difficile all'interno di un'amicizia e anche dell'amore perché esistono tante forme d'amore eh alcune superficiali rapporti superficiali e eh che secondo me non vanno mai giudicati anche se sono superficiali ci sono eh momenti eh momenti nella vita in cui non si è pronti a affrontare delle relazioni forse più eh importanti e e tutto è un come l'acqua come un fiume che arriva al mare è tutto un percorso per arrivare a migliorare noi stessi a a conoscerci meglio a sapere cosa ehm vogliamo della nostra vita e che cosa è importante per noi eh quindi nel mio caso ovviamente eh la mia famiglia e eh l'amicizia sono eh le ragioni per cui eh io mi sento di continuare a scrivere e ehm e a passare più tempo possibile con le persone che amo ok questo è un po' acqua mi sembra che ci sia tanto c'è tanto iniziamo dall'inizio magari se vogliamo dare delle informazioni un po' più tecniche se vogliamo quando hai scritto questo libro e perché hai iniziato a scrivere e hai deciso voglio scrivere un libro da pubblicare sì allora ehm il motivo allora l'inizio proprio l'inizio e questa è una storia molto molto personale ma che sono contenta di condividere con voi eh la mia migliore amica purtroppo si è ammalata eh nel duemila e dieci e eh lei era proprio mh stanca e sofferente e voleva avere ancora qualcosa su cui eh appoggiarsi qualcosa a cui pensare un progetto e quindi io ho pensato che forse sarebbe stato carino eh scrivere un libro insieme e lei era molto molto entusiasta di questo progetto purtroppo le sue condizioni non hanno permesso non le hanno permesso non ha potuto non stava bene non poteva scrivere allora abbiamo deciso che avrei scritto io e lei avrebbe commentato eh però l'idea eh del libro non era ancora molto chiara io volevo scrivere su di lei ma non sapevo esattamente cosa scrivere su di lei nel frattempo però è successa eh una cosa un po' particolare una nostra terza amica eh ha deciso di eh togliersi la vita nel togliersi la vita questa nostra amica comune io ero molto addolorata per questa perdita ovviamente ma Paola che era questa mia migliore amica malata era molto arrabbiata perché lei avrebbe voluto se avesse potuto fare uno scambio uno scambio di vita tra una persona che per qualsiasi ragione ce ne sono tantissime non vuole eh vivere e una persona malata che vuole terribilmente vivere ma non ha una opportunità non ha una via d'uscita quando ho raccontato di questa cosa a Paola lei era entusiasta mi ha detto sarebbe fantastico se si potesse dare la vita tra una persona che per qualsiasi ragione non la vuole darla a una persona che terribilmente la vuole ma purtroppo non non può salvarsi e quindi questo è stato il vero motivo per cui io ho scritto acqua perché volevo fare vivere questa mia amica per sempre e quindi in questo libro e anche grazie a voi grazie a chi lo leggerà un pensiero ci sarà sempre per lei e quindi per me questa era un dono che volevo fare a lei e anche a me perché nello scrivere sono stata un po' meglio perché ho capito tante cose della nostra amicizia della filosofia ho ristudiato riletto tante parabole tante storie orientali che mi hanno fatto stare meglio che mi hanno fatto capire che comunque la vita è un ciclo va avanti e tutto succede per una buona ragione e infatti così è stato ovviamente oltre alla sofferenza c'è comunque un bel ricordo e una una grande un grande dono che mi ha regalato paola non solo aver realizzato il mio sogno di scrivere e pubblicare un libro ma anche di di farla vivere per sempre in tra le righe di questo romanzo anche un'altra ragione è di poter anche lasciare qualcosa ai miei figli per un futuro perché comunque in acqua come dicevo c'è tanto di me e quindi chi legge acqua mi ritrova un po' nelle mie parole nel mio modo di essere e quindi ehm se mai i miei figli un giorno ehm volessero sapere la mia opinione su qualcosa tra le righe la possono trovare fa proprio fai proprio venire voglia di leggerlo ci sono c'è dietro una storia seppur tragica ma bellissima c'è un'intenzione nobile e ehm è bellissimo anche il fatto che dici che anche più in là ti potranno riprendere e ti potranno eh chiedere consiglio eh attraverso il tuo libro è bellissimo no? È bellissimo perché non sempre succede no? Soprattutto quando una persona non scrive una vera biografia quindi eh è proprio è molto molto interessante ehm e perché arriviamo allora alla domanda perché questo libro ah lo hai scritto così lo hai deciso di trasformare in un libro bilingue? Sì allora essendo insegnante di italiano e in internet so che ci sono tantissimi libri ci sono tanti libri bilingue ma normalmente sono classici quindi i classici della letteratura italiana che sono molto belli ovviamente ma sono un po' difficili sono già difficili per noi italiani eh e poi alcuni sono anche molto libri molto vecchi come la divina commedia e quindi è già un italiano antico eh che già ha bisogno di parafrasi quindi è molto difficile e ehm tanti miei studenti mi avevano chiesto ma non trovo libri eh novelle eh romanzi moderni bilingue e allora io avevo già l'italiano e avevo già l'inglese ma in realtà pensavo fosse più semplice pensavo di fare un copia e incolla dell'italiano e dell'inglese ma poi mi sono resa conto che ehm la traduzione nella traduzione tante cose sono state modificate cambiate e ho deciso quindi di partire dall'inglese e ritradurlo in italiano proprio per gli studenti così possono usarlo come materiale di studio e sottolineare per esempio le parole che in italiano non conoscono e poi guardare subito a lato senza bisogno di un dizionario e la traduzione in inglese e poi possono evidenziare tutte e due le parole e imparare e provare a fare delle frasi con queste parole che non conoscono anche tanti modi di dire che sui libri di grammatica non sempre si trovano ehm che le conversazioni sono interessanti da eh leggere per eh imparare i modi di dire vari modi di dire italiani e quindi secondo me acqua è il libro che si prestava meglio per questo tipo di di studio per migliorare la lingua e il vocabolario specialmente anche questa una causa nobile per per gli studenti di italiano eh prima di tutto succede poche volte come hai detto tu di trovare dei libri che sono eh che non sono classici eh tradotti in tutte e due le lingue e succede ancora meno spesso di riuscire anche avere la l'autrice a un palmo dalla mano su zoom ma ehm ma comunque vicina e e fare domande e avere tutte anche le risposte alle curiosità a tutto quello che può che può insomma venire fuori ehm io lascerei già la parola alle domande così vediamo quali sono le curiosità che possono essere sia magari sulla storia se c'è qualche curiosità ma non troppe eh non sveliamo troppi particolari eh oppure domande anche un po' più tecniche del viaggio di scrittura sul viaggio della scrittura o qualsiasi cosa vediamo un po' ci sono delle domande qualcuno ha delle domande? Anne-Marie non fare la timida no io non ho una domanda adesso ok veramente non ce l'hai ok mi fido pensateci nel frattempo faccio io una domanda ehm quale è quale è l'emozione eh di di poter fare un book club sul tuo stesso libro perché poi parleremo anche di questo sì allora sono contentissima per me è un'opportunità incredibile eh sono veramente ringrazio il collina per questa opportunità perché per me è un'esperienza sarà un'esperienza eh fantastica non l'ho mai fatto eh e non vedo l'ora di cominciare questo corso e mh e ho le idee molto chiare su come voglio organizzarlo e sarà sarà veramente una molto un'esperienza particolare perché eh tutti i lettori vedono qualcosa di diverso nel libro e questa cosa a me piace moltissimo quando ho sempre sentito commenti più di amici ovviamente alcuni lettori mi mandano le recensioni e anche quando i lettori mi mandano delle recensioni per me è molto interessante perché a volte leggo dei commenti che ehm in realtà non erano non erano osservazioni non erano cose che io avevo scritto intenzionalmente quindi per me è una sorpresa quando qualcuno mi dice mi fa un commento particolare ma in realtà toccano sempre ehm delle parti importanti di me che inconsciamente non non sapevo quindi poi quando mi fanno dei commenti così specifici io capisco capisco da dove sono nati e ma alcune volte non ho eh non l'ho fatto con l'intenzione di ehm dare questa idea ma in realtà è ancora una parte di me e quindi per me è molto curioso molto bello ehm quando vedono qualcosa di diverso eh ce lo vuoi ridire anche un pochettino in inglese magari non con le stesse parole ma il concetto così so maybe we understand a little bit better because this is a very interesting point actually that I think we should we should say also in English because it's very interesting yes so I was saying that some readers they send me comments or review and about my book and sometimes they talk about some topics or some feeling they understand from the book something that it was not my intention to write that way or to write I didn't know about it let's put it this way it's a little bit weird for me for myself at the beginning when I read some comments but then at the end when I try to understand better what I want to say it's something that it's unconscious in my conscience I probably didn't know when I was writing but it's true and it is me it's just that maybe it was not obvious to me and so for me it's incredible and it's fantastic when I receive comments from readers from people that they don't know me at all and they find out something so personal about me that almost even myself I didn't realize that before the comment and then I analyze and I'm like yeah actually that's true that's me I guess that's me so it's for me it's incredible to to listen to all the comments especially coming from people that they don't know me because they really can can find good points about my style also about like for example about my style I like to write something that is not that common like even the use of the verbs I like to associate like a metaphorically a verb associate to something that is not that common in the language so that's that's more that's something that is my characteristic so even the editor when I ask them is it correct in English or the translator and they say not really but I like it I mean it's not that it's wrong it's just that we say in a different context in English but it's exactly the same in Italian exactly the same so that's really what I want and they like it so I ask them because I don't want to you know sound weird but once they told me no that's fine that's acceptable it's just a more poetic yeah we can say more poetic way to write and I like to read poems so sometimes the the editor is bring me back on track and they're like oh you're going too far so go back on track and that's their job so that's good I appreciate that but I like poems and I like to write sometimes in a metaphoric way and I think that's interesting what somebody else can see yeah and even aqua I mean the painting itself it's from one of my good friend Anna she paint this is her painting but this is my profile and Paula profile was very similar to mine so my best friend's profile and mine it's a combination of our two profiles and but her painting it's like you can see like all these lines so when I ask her what that means so when you are when you were painting this what what were you thinking about what was your and she told me a whole long story about it and they are only blue and white lines for us but I could see like for me I could see aqua and I could see um yes the water like uh but she told me the same thing she told me I love when people are kind of commenting my painting because it's the same like comment in a book people can see something different so that's the beauty for me of art in general that is writing or painting because everybody can see something different depending on their experience in life and um I think that's very nice for an author or an artist to hear these comments it's uh all good vibes also for the future eh sì anche ispirazione per il futuro certo certo so anybody has a question let me ask again let's see let's wait two seconds for the shy people oh nate ok eh rosana è stato difficile scrivere in semplice del normale per gli studenti buona domanda non ho scritto in modo semplice no no ho scritto ho veramente tradotto dall'inglese all'italiano non ho scritto in modo più semplice non è non è una versione semplice è una versione reale di lo stesso modo avrei scritto eh un'altra novella no non ho modificato infatti per questa ragione ho scritto eh intermediate and advanced learners perché è comunque non è per beginners i beginners possono usarlo per imparare i vocaboli sì anche c'è l'inglese però ovviamente è difficile pensare che leggono solo l'italiano devono guardare più spesso forse l'inglese non è non è così semplice mentre per gli advanced possono leggerlo bene in italiano e poi qualche volta guardare in inglese grazie grazie anche donna ha una domanda sì sì voglio dire che ho il letto ho letto a 100 pagine della del libro molto interessante ho comprato il libro prima prima di imparare del questa zoom sì ho ascoltato a molti a molti molti podcast molti youtube ed una delle persone non non mi sono ricordata chi è ma mi raccomando che dovrei leggere e questa questo libro non è scritto in un 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 modo semplice voglio dire la lingua nel libro è bellissima sono un sono una persona che ha amato semplice voglio leggere e quando leggo questo libro mi sono commossa con te con la scrittrice adesso ho imparato imparato che questo libro è una un specchio uno specchio della sua vita farò per me il libro di più commosso di più bellissimo bellissimo grazie donna sì 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 la lingua è bellissima e infatti quando tu dici che il tuo mentor ha detto che qualche volta tu tieni libertà con le parole devo dire che penso di no 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 che ho notato due volte quando dopo leggere gli italiano ho guardato all'inglese e io penso molto interessante la traduzione sì anyway per per le persone che non ho conosciuto ho comprato il libro ancora mi raccomando che loro va grazie mille mamma mia che belle parole donna veramente la verità è la verità dico la verità quindi grazie 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 mille donna ecco ecco perché scrivo scrivo perché è troppo bello per richiedere questi commenti per me non hanno non hanno non c'è prezzo però sì 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 sono d'accordo con con quello quando una persona ha una un sentimento un pensiero che voglio dire la persona la persona riceve un dono non grazie infatti apprezzo molto apprezzo tante volte si tengono anche io ho imparato perché sono una scrittrice adesso do sempre la mia opinione a un perché è giusto che c'è tanto lavoro e se veramente piace qualcosa è meglio condividerlo con l'autore che è una grande motivazione per continuare grazie grazie c'è una domanda penso da grazie donna c'è una domanda da forse un commento non so sì un commento ecco come hai saputo è un commento rosana ha parlato del linguaggio del libro quando quando lei ha scritto in italiano e inglese e come la traduzione e tra tra italiano e inglese e con le parole un po più artistica e come essere uno dei lettori di questo libro è interessante sapere l'inglese sapere la lingua inglese e anche italiano e e come io sento un po differente quando leggo in inglese e leggo in italiano e come le due cresciano un'esperienza più grande del libro penso sia la magia di questo libro sia proprio questa no a riuscire a essere un libro interessante eh un libro scritto per una passione e per tutto quello che c'è dietro e anche un libro che può essere ancora migliore leggendolo in due lingue giusto rostana giusto giusto sì 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 è bello come dicevo anche per appunto per imparare tanti modi di dire tante espressioni ehm che sono moderne e quindi non è un linguaggio antico anche se è un pochino difficile ma è bello anche per gli studenti eh avere un po di challenge e quindi leggere qualcosa di un pochino più difficile si impara sicuramente di più poi ehm anche leggere e leggere per piacere quindi tante volte non bisogna avere fretta quindi con calma eh per chi fa un po' più fatica può leggere più lentamente ehm però ci sono secondo me tante parti ehm che possono ehm invogliare a continuare anche questo è importante perché è una storia specialmente quando si inizia con la storia d'amore tra eh Valentina e Sean eh tutti vogliono leggerla vogliono sapere ehm che cosa succede e quindi anche questa è una spinta in più per eh per voler leggere in italiano mentre se il libro fosse un più lento eh diventa un po' più difficile perché bisogna avere più pazienza invece è un libro che va scorre abbastanza velocemente e penso che penso che proprio la differenza sia nel fatto che sei stata tu proprio hands on a scrivere entrambe le le traduzioni le versioni eh che è molto raro a volte si trova in italiano la traduzione in inglese che non rispecchia che non ha tutte quelle caratteristiche che hai aggiunto tu del pensare da insegnante utilizzare le stesse parole ehm è pensata ogni parola ogni riga e è una cosa che succede non raramente ma di più sì non succede quasi mai e quindi questo lo rende proprio ancora più ehm unico sì ho lavorato veramente un anno sulla traduzione solo sulla traduzione solo sulla traduzione quattro anni per scrivere acqua eh tante modifiche tante cose e un'altra ultima cosa che voglio dire in generale è che eh forse il mio stile è maturato negli anni diciamo ma acqua rimane un libro che io ho nel cuore e sarà sempre il mio preferito in generale per la mia esperienza ma anche perché era forse la mia prima volta in cui ehm esprimevo tutto quello che avevo dentro in modo onesto e sincero quindi ehm anche questo eh io non amo le fiction quindi anche se c'è parte di fiction per concludere il romanzo per romanzare la storia ovviamente ma ehm tutti i sentimenti che sono espressi che sono scritti nel libro sono sinceri e si sentono ed ecco perché è un libro un po' commovente e coinvolgente perché ehm sono sentimenti che ho provato e non sono sentimenti che ho inventato sono cose che ho ho vissuto realmente fantastico fantastico quindi ehm noi in conclusione ehm invitiamo tutti a questo altro viaggio che è il book club che è appunto la l'esplorazione del libro insieme all'autrice stessa ehm un book club che sarà sviluppato in sei lezioni dove cosa farete Rossana dici tu usa tu le tue parole non voglio rubarti le parole allora faremo eh i lettori dovranno avere un po' leggere i primi sei capitoli prima di iniziare che così possono tranquillamente entrare un po' nella storia e analizzeremo i personaggi quindi ci sarà ovviamente conversazione e che sarà sarà più conversazione degli studenti eh io risponderò alle domande però eh parleremo dei personaggi eh delle ambientazioni dove è ambientato e anche delle parti proprio importanti che non voglio eh rivelare troppo ma eh tutte le parti che vanno un pochino analizzate e usate come fonte di conversazione bellissimo bellissimo eh ci sono altre domande curiosità anche magari sul book club eh o su qualsiasi cosa Janet dici tutto ho ho solamente un commento secondo me dal punto di vista artistica le parole che usare nel nel libro sono come un pennello un pennello un pennello e pennello e anche è um molto e um fa molto interessante fa lo lo fa lo fa molto interessante grazie grazie Janet grazie mille grazie mille delle tue belle parole sì perché Janet ci ha detto che anche lei ha letto qualche pagina già ha già letto qualche pagina anche lei e speriamo che riescano ad aspettare un pochettino senza correre troppo perché sappiamo che come hai detto tu è un libro che fa venire voglia di andare avanti e non fermarsi mai e sono sicura che usciranno tanti spunti di riflessione anche come hai detto tu inaspettati a volte magari esatto sarà interessante penso io non vedo l'ora di cominciare sono pronta, prontissima benissimo allora ragazzi io voglio ringraziare prima di tutto Rossana perché senza di lei non saremmo qui ringrazio chi ha partecipato ringrazio già le persone che sono interessate che inizieranno questo viaggio con Rossana e se vuoi salutare anche tu Rossana grazie a Collina per l'opportunità e non vedo l'ora di conoscervi grazie a tutti veramente per usare il vostro tempo per leggere il mio romanzo che anche quello per me è importantissimo è un regalo proprio che mi fate incredibile e spero di poterlo commentare con voi se non durante il book club e in un'altra occasione mi piacerebbe comunque sentire tutti i vostri commenti per me sono molto importanti quindi sentitevi liberi di scrivermi qualsiasi recensione qualsiasi commento quando volete sarò felicissima di leggere di leggervi bellissimo bellissimo allora grazie ancora a tutti e per qualsiasi informazione ci potete contattare e non vediamo l'ora anche noi di rivederci magari rifaremo una puntata a seconda per sapere cosa è uscito fuori quali sono i dettagli che ci erano sfuggiti e le curiosità che magari vogliamo discutere insieme dopo dopo questo questo nuovo corso va bene? perfetto grazie mille grazie mille a tutti ciao a tutti buona serata e a presto grazie mille grazie ciao ciao ciao